ciao a tutti cari amici ben trovati con il nostro consueto appuntamento della mattina andiamo a vedere con il calendario dell'avvento oggi siamo il 17 dicembre com'è la situazione oggi allora innanzitutto andiamo a prendere il nostro messaggio motivazionale del giorno sono in un viaggio di continuo cambiamento la mia vita non è mai bloccata statica o spenta perché ogni istante è fresco e nuovo ogni fine rappresenta un nuovo inizio questo è il messaggio per voi oggi e andiamo a vedere con i nostri oracoli degli specchi qual è la situazione di oggi quindi cosa succederà un po' no? io ricordo sempre che sono interattivi quindi naturalmente non possono risuonare con tutti voi perché siete tantissimi allora andiamo a vedere ancora prendiamo un'altra carta allora qua le carte mi mostrano che attualmente potrebbe esserci un nuovo inizio una nuova prospettiva, un nuovo progetto, una nuova relazione, una nuova conoscenza quindi cercate di capire un po' anche in base alla vostra situazione per alcuni di voi questa carta mi sta a significare una situazione dove per esempio un nuovo contesto anche potrebbe voler dire non so prendere una decisione per andare a convivere qui abbiamo anche la casa quindi una nuova abitazione, un nuovo rapporto ok quindi fatemi sapere nei commenti qual è la vostra situazione allora cosa che emerge principalmente nella giornata di oggi? di sicuro qui c'è un'attrazione molto importante nei confronti di o una situazione o anche una persona qui vedo una crisi, una gelosia che può manifestarsi a metà giornata all'incirca verso un rapporto se voi siete in coppia ma anche verso una situazione cioè la gelosia mi parla sia di gelosia come la conosciamo tutti a livello sentimentale ma può riguardare anche una crisi personale quindi non sentirsi all'altezza il riscontrare dei problemi nell'affrontare una situazione, un lavoro, un incarico e poi qui vedo anche degli spostamenti per alcuni di voi potreste dover andare all'estero quindi per avere una nuova opportunità, un nuovo lavoro per esempio e essere un po' in crisi per questo cioè magari vi viene proposto, fatto una proposta molto allettante a livello lavorativo però appunto per affrontare la situazione dovrete spostarvi quindi allontanarvi dalla famiglia di origine, dalle persone alle quali volete bene e questa cosa potrebbe insomma mandarvi un po' in crisi se invece parliamo di questioni sentimentali anche qui c'è da capire per esempio perché per alcuni di voi potrebbe esserci un incontro per altri potrebbe riguardare il fatto che magari avete un sospetto cioè c'è una persona che vi piace molto ma magari la vedete o è impegnata o vedete che flirta con altre persone quindi suscita gelosia in voi e potrebbe esserci un raffreddamento all'interno del rapporto con questa persona cioè sentirvi di stacco ad essere voi stesse a staccarvi io vi mando un abbraccio, vi auguro una buonissima giornata vi aspetto domani col calendario dell'avvento naturalmente e questa sera con la nostra canalizzazione del pensiero una buona giornata a tutti